Massimiliano Fedriga, come commenta le promesse fatte da Matteo Renzi al termine del Consiglio dei Ministri? Appunto si tratta solamente di promesse, perché non c'è né un decreto né un disegno di legge che vanno, per esempio, a tagliare il cuneo fiscale. L'unica cosa concreta è assolutamente una cosa giusta ma irrisoria, ovvero il decreto per rivedere i contratti a termine e i contratti di apprendistato. Cosa assolutamente irrisoria in un momento di crisi economica che oggettivamente non rilanceranno assolutamente l'occupazione. Noi abbiamo avanzato delle proposte serie, prima fra tutte l'abolizione della riforma Fornero, che è l'unica strada per dare una risposta immediata al 42% di disoccupati giovani, al 12,7% di disoccupazione generale. Altre strade non esistono. Quello di Renzi mi sembra una strategia di vendita di fumo incredibile, ma di concreto poco o nulla.